Mi sottopongo alla vestizione come di consueto, ma sapeste che sofferenza. Quando la caccia è raccontata da un curioso protagonista. Io sono Ted, settore inglese di 4 anni e lui è Paolo, il mio ausiliare. Un itinerante diario di viaggio, alla scoperta delle destinazioni dove si può praticare con soddisfazione. La caccia con il cane da ferma. Bravi i cani soprattutto. Parola di cane, dal 5 febbraio ogni venerdì alle 21. Su Caccia, canale 235. Grazie.